presentati mi chiamo Selma Merini vengo dal Marocco sono nata qua in Italia ho 11 anni e mezzo sono nata a settembre e vado in prima media cosa vuoi fare da grande? la pediatra se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? cantare una canzone è una canzone di un tipo di un film che guardo e che si intitola chissà qual è il destino che avrò chissà qual è il destino che avrò chissà se sarai tu a dire no chissà se avrò fortuna chissà la vita passa e va avresti un giorno ma non ne ho ciò che il mio cuore vuole non lo so ma cerco la felicità ora che ho capito che avrò tante cose a cui dovrò pensare ma volano nel vento mentre resto da aspettare oh che grande confusione riesco a suscitare in te che sembri perditi fai un appello al pubblico per farti votare se vi è piaciuta la mia canzone votatemi e vi ringrazio wow wow